La Polizia Municipale di Gela multa i mezzi della Tecra, l'azienda che si occupa della raccolta e smaltimento di rifiuti, è decurta a tre punti della patente ai conducenti delle moto-ape sorpresi a bordo del mezzo forzatamente attrezzato di contenitori nella parte posteriore. A denunciarlo è stato il segretario generale della CGL, Ignazio Giudice, al termine di un incontro con i lavoratori della Tecra, convocato al fine di affrontare alcune criticità che da settimane attraversano i dipendenti e i cittadini. La CGL, si legge in una nota, assieme ai lavoratori, già un mese addietro, aveva chiesto alla Tecra, la presenza tra l'altro del Vice Sindaco, di usare un metodo alternativo e la stessa azienda, nel confermarlo, ha anche ribadito che al Comune è stata segnalata l'inopportunità di procedere con questo metodo di raccolta vetro. Come previsto, il controllo da parte della Polizia Municipale ha avuto effetti sui lavoratori e sulla stessa azienda, tanto che sono stati elevati 90 euro di multa e ai lavoratori sono stati decurtati, come dicevamo, tre punti dalla patente. La multa sarà pagata dalla Tecra, ma la CGL da subito ha informato la stessa società che nessun lavoratore è disposto ad accettare questo metodo. Lo stesso problema si pone per la raccolta pannolini e pannoloni. Il Corpo di Polizia Municipale non condivide che i rifiuti siano esposti e quindi appesi nella motoape, oltre, tra l'altro, alla differenziata che deve continuare e non tutti i rifiuti, ovviamente, non possono andare nello stesso contenitore. La CGL, inoltre, ha chiesto un incontro urgente al Sindaco perché le questioni di carattere organizzativo su un tema così delicato sono di sua responsabilità, sia perché lo stesso è garante della salute pubblica, sia perché vige la certezza della responsabilità in solido e a maggior ragione se si riscontrano uno o più pecche della Tecra inerenti le scelte compiute sul metodo di raccolta. La CGL continuerà a monitorare il servizio e a segnalare le anomalie. Un un po' più ascolto, chiudere nota e umiltà sarebbero ingredienti indispensabili.